Un anno, la consulente di alimentazione. 12 anni, i consulenti matrimoniali. Vuoi venire a ballare con me? No. 35 anni, il consulente calcistico. Dobbiamo fare donna. È ora di scoprire una consulenza vera, con poste italiane ai consulenti dedicati a prestiti, conti correnti, investimenti e polizie assicurative. Scopri Prestiti Banco Posta. Vieni all'ufficio postale. Prestiti Banco Posta. Ce n'è uno per tutti. Grazie.